buongiorno a tutti allora video veloce veloce da leccarsi le orecchie per informarvi che questa sera visto che è saltata quella di ieri perché giustamente c'era napoli inter questa sera dalle 21 e 30 22 diretta con il gigione via del tutto eccezionale al martedì proprio perché c'è stata la partita a lunedì non l'ho potuta fare e quindi mi sembra giusto fare un video in diretta come faccio tutte le settimane in via del tutto eccezionale martedì martedì sarà comunque il giorno in cui nel caso in cui l'inter gioca a lunedì faremo la diretta velo già velo anticipo già prima perché l'avrei voluto fare mercoledì ma ciò il calcetto quindi questa sera vi aspetto dalle 21 e 30 barra 22 fino a orari che vedremo con la diretta del gigione detto questo vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao